Ecco, ci siamo! Ok Scusa? Ricondurrò questa canale nelle sue terre, vedremo cosa penseranno i suoi dodici fratelli del suo comportamento. Arendel, vi ringrazio, Giorgio. Questo è l'accettabile, io sono stato vittima della punta! Sono stato tre da partizia! Mi è vero da intercicolta! C'è un pedico che passa a visitarti in questa vita! Razzata! E' da dare una leggera! Oh, ho un messaggio della regina! Arendel, d'ora in poi, non intratterrà commerci di alcun tipo.